Un'incidente nel pomeriggio di venerdì 19 luglio sulla strada provinciale 1 all'altezza delle suore missionarie a Venaria Reale. Una Fiat Panda condotta da un quarantenne è uscita di strada finendo nel fosso. Secondo una prima ricostruzione, pare che, ma è ancora da accertare, la causa degli incidenti sia stato il sorpasso di un mezzo della polizia stradale del comune di Villanova Canavese. La vettura ha oltrepassato la corsia opposta finendo fuoristrada. Sul posto sono intervenuti il 118, la polizia locale di Venaria e i vigili del fuoco di Torino. Quest'ultimo è non stato l'uomo della vettura e affidato alle cure dei sanitari. È stato trasportato poi all'ospedale Maria Vittoria in codice giallo, ossia ferito ma non in pericolo di vita. Grazie a tutti.